Regione Toscana, il consiglio regionale. Regione Toscana dà il via libera alla prima variazione di bilancio del 2023 per una somma di quasi 47 milioni di euro che vanno a finire al settore sanitario. Il provvedimento è passato in aula a maggioranza con 23 voti a favore e 12 contrari. L'operazione approvata non cambia la spesa complessiva della Regione ed è stata necessaria per riacquisire risorse così da garantire l'equilibrio economico al bilancio consolidato del sistema sanitario regionale. Sì, è un intervento importante perché con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022 che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata e cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% dei PIL, il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8% di Germania, di Francia, contro il 7,5% della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario se volessimo essere al pari di Germania e Francia o almeno 20% se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte. Altrimenti le regioni saranno sempre costrette a dover fare variazioni, adeguamenti ma che tentano di mettere una toppa rispetto al grande problema che è un vero finanziamento del fondo sanitario nazionale. Sì, una variazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità che non serviva a aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito. Io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare l'addizionale IRPEF e che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti. Ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare come Italia Viva, ma intanto soddisfazione di una maggioranza che trova la compattezza in questa manovra di bilancio. Contrarie tutte le opposizioni che hanno criticato fortemente la gestione da parte della Regione Toscana in Sanità, evidenziando come l'emergenza nel settore dei conti sia ormai all'ordine del giorno, senza che vi si trovi una strada per migliorare spesa e gestione sanitaria. Direi che più dedicata alla sanità, dedicata a uno storno per fare chiarezza dei conti della sanità e un po' mettere le mani avanti perché ancora alcune difficoltà permangono. 46 milioni circa di storno, di cui una gran parte dai patronage delle aziende sanitarie e un'altra parte più piccola, i fondi di riserva. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari, sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione è permanente, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra Regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra. e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che veramente confronto tra le parti. Noi ci siamo, ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Una valutazione pessima nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della Regione Toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario rispetto alla quale la Regione Toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quella Fondo ne viene una quota parte anche alla Regione Toscana e così riesce la Regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto. Quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per fare cosa? Per fare il duemilesimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa. Inutile che ci vengano a dire in aula, noi facciamo debito perché fermiamo prestazioni. Non è vero, non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici, sempre più dei vostri amici, perché create in continuazione i posti dirigenziali anziché dare prestazioni. È vero l'esatto contrario, tant'è che la Corte dei Conti ha svelato il blef delle liste d'attesa, della gestione delle liste d'attesa perché evidentemente le persone non riescono non soltanto ad avere la visita o avere la prestazione sanitaria, ma nemmeno a prenotarla perché le liste sono bloccate. Quindi questo è sotto gli occhi di tutti come vengono selezionati i primari e i dirigenti medici. Anche questo è sotto gli occhi di tutti. Ahimè, è sotto gli occhi della magistratura. Non ci fa piacere, pur stando all'opposizione, che due dei quattro dirittori generali delle aziende universitarie ospedaliere toscane siano stati spazzati via dall'inchiesta della magistratura, rispetto alle quali anche il governatore generali non ha potuto che prenderne atto. Careggi e Maier, quindi duemila primari, uno ogni dieci posti letto in Toscana, selezionati con selezioni che sono attenzionate alla magistratura. Un sistema disastroso al quale noi vogliamo fornire un'alternativa. Naturalmente è una valutazione negativa, anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro. Un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi, per l'ennesima volta, ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana, che però non vengano, diciamo, destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Nel dibattito tra gli ordini del giorno approvati all'unanimità, un atto presentato dalla consigliera Irene Galletti sul consolidamento strutturale del progetto Vita Indipendente, che impegna la Giunta a istituzionalizzare con legge il progetto come diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, in tutti gli aspetti del vivere sociale. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano e si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il Covid, però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva e a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari e poco importa che in questo momento e solo in questo momento la Giunta regionale invochi un intervento del governo perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal affare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di OS, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa, vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari, lo ricordo il bilancio della Regione che è di circa 13 miliardi di euro ogni anno, quasi all'80% dal 70 all'80% è destinato alla sanità, si parla ancora così poco di prevenzione e di tutela anche della salute e della sanità che non sono accettabili spostamenti simili se non sono attentamente mirati e soprattutto se non sono cause davvero di emergenze, la sanità toscana è in emergenza da sempre, da troppi anni. Altro intervento in tema sanitario del Consiglio regionale con cui la Regione ha chiesto la proroga della validità della graduatoria degli OS, gli operatori sociosanitari. Lo ha affermato in aula l'assessore Simone Bezzini rispondendo a un'interrogazione di Marco Stella, il quale chiedeva se fosse in programma un nuovo concorso. La risposta della Regione indica con chiarezza che non ha in vista alcun concorso indetto da Estar nel 2023 in Toscana per l'assunzione di nuovi operatori sociosanitari e questo perché ancora è in vigore la vecchia graduatoria dell'ultimo concorso svolto e lo sarà ancora per svariati mesi e da cui attingerà Regione Toscana per le nuove assunzioni. La prima interrogazione che abbiamo fatto è del primo febbraio. Avevamo chiesto in quel giorno all'assessore Bezzini se quella graduatoria si poteva sbloccare. Ci fu risposto che quella graduatoria non si sarebbe sbloccata, non si sarebbe mossa perché erano state già assunte negli ultimi tre anni una quantità sufficiente di osse. Allora noi replichiamo ma perché fare un concorso? Perché fare un concorso dove avevano partecipato 9.000 persone, più di 2.000 erano quelle che erano risultate i duone e ad oggi soltanto 300 di quelle 2.000 erano state chiamate. Tenete conto che per partecipare a quel concorso le persone si erano impegnate, hanno studiato, hanno sacrificato proprio tempo, tempo tolto alla famiglia, hanno pagato anche 15 euro di bollettino per partecipare al concorso. Finalmente dopo mesi di sollecitazioni interrogazioni, mozioni, abbiamo fatto conferenze stampa sul tema delle osse, oggi grazie a Forza Italia l'assessore rispondendo all'ennesima interrogazione di Forza Italia è venuto in aula dicendo che presso la conferenza delle regioni si è mosso qualcosa, tutti i presidenti di regioni compresi quelli di centro-destra ma anche il nostro presidente Gianni ha sollecitato il governo affinché le graduatorie che riguardano il comparto del settore sanitario, compreso quindi della graduatoria osse, potrebbero come dire avere una proroga di un anno. Questa notizia è una notizia positiva, certo non è una notizia finale, non diciamo che abbiamo vinto la nostra battaglia, diciamo semplicemente che siamo contenti di aver fatto cambiare idea alla Giunta Gianni, all'assessore Bezzini e al Partito Democratico. In un primo momento c'era stato detto che la graduatoria andava bene così, che non ci sarebbe stata la proroga, oggi scopriamo, grazie a Forza Italia, grazie al nostro impegno che su quella graduatoria invece il governatore Gianni ha chiesto una proroga di un anno insieme a tutte le altre regioni. Questo non basta perché da oggi comincia un percorso diverso, noi continueremo a sollecitare naturalmente i nostri parlamentari, il ministro della salute, affinché ci sia una proroga per lo meno di un anno. Noi chiediamo due anni ma per lo meno di un anno per tutte le graduatorie che riguardano il comparto della sanità regionale. Tra l'altro l'impegno sullo scorrimento della graduatoria risiede negli atti proposti da tanti gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza e quindi ne discuteremo anche nelle prossime ore. Ma l'assessore ha ribadito il concetto, cioè la possibilità di scorrere la graduatoria o comunque di mantenere in vigenza la graduatoria oltre i due anni consentiti attualmente dalla legge, spetta a livello nazionale che deve appunto intervenire su una norma, prorogando di almeno un anno, richiesta che la Toscana ha già avanzato e che è stata fatta proprio anche dalle altre regioni. Dopodiché chiaramente c'è tutto un lavoro che riguarda vincoli che risiedono ancora su livello nazionale rispetto ai tetti di spesa e anche ai numeri assunzionali che ancora oggi risaliamo al governo Berlusconi e al ministro Brunetta, sono stati posti rispetto a un limite economico che risale addirittura al 2004. Quindi l'impegno della Toscana è forte di tutta la Giunta per eliminare questi tetti che ancora esistono e che chiaramente incidono sulla graduatoria per gli OSS come sulla possibilità di ulteriori assunzioni di personale. Ma da qui devo dire l'assessore ha ribadito che il lavoro è in corso e che anche nelle prossime conversioni dei decreti legge giacenti in Parlamento forse potremo confidare una soluzione al problema. Regione Toscana, il Consiglio regionale